namaste eccoci qua non sono un amante dei tutorial audio video quello che sia su internet preferisco il faccia a faccia però c'è il weekend allora dedichiamoci un pochino di tempo in questo weekend perché alla fine questo è l'importante dedicarsi tempo e con una piccola tecnica di pranayama domani inizio un meraviglioso viaggio con alcuni dei miei allievi quindi condivido con voi la base super base del pranayama fondamentale schiena dritta puoi sederti su terra cuscino come sono io o su una sedia va benissimo il mento appena verso il basso riposo le mani in grembo sulle ginocchia togliamo tutta l'idea serve qualcosa di strano rilassa a questo punto vuoto i polmoni completamente inspiro contando due tempi quindi mille uno mille due tengo apnea per due tempi mille uno mille due espiro per quattro tempi mille uno mille due mille tre mille quattro la tecnica diventa queste inspiro apnea espiro e poi ricomincio facile facile dedicaci tre minuti cinque minuti perfetto anche fino a 10 20 vai benissimo se poi senti che l'apnea per te è molto comoda aumenta la piano piano quindi due o tre cicli con due tempi di apnea due o tre cicli con tre tempi di apnea due o tre cicli con quattro tempi di apnea e vai a salire fino a otto tempi di apnea per ora ci teniamo questo come massimo la tecnica finale e così via ok provala fammi sapere namaste grazie a tutti grazie a tutti